No! 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 Che passa? Qual è il problema? No! Pablito! lavoraron robando la caglia ront, le incontreron, medie chilo escondirono nelle stavle del piso! Medio chilo di che? Della vacanzia! Eh? Che me dici? Non c'hagiste venire a qui per dire che questo... come si chiama? Se roba una libretta da azucar o aina o come se putas? Que'è eso? Ah! È cocaina! Cocaina! Oh, mierda! Sei un narcotrafficante colombiano! Rico e poderoso narcotrafficante colombiano!